Ciao a tutti musicisti, oggi parleremo di qualcosa di molto importante per noi, per portare avanti in modo strutturato il nostro lavoro e per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Parleremo infatti di organizzazione e pianificazione del nostro lavoro e nel corso del video vi consiglierò anche alcuni strumenti, alcune applicazioni e servizi utili che utilizzo io stesso per gestire alcune parti del mio lavoro. Tra questi servizi c'è anche Fiscozen che è il servizio che utilizzo per semplificare la gestione della mia partita IVA e che sta collaborando alla realizzazione di questo video, ma di questo ve ne parlerò più tardi. Nel frattempo se non mi conoscete io sono Marco Ielpo e questo è Musicista Smart, il format, podcast e video dedicato a chi vuole rendere la musica qualcosa in più di una passione. Nel corso di questo video parleremo di gestione del tempo, di organizzazione dello spazio di lavoro, di organizzazione e pianificazione dei nostri progetti e partiamo proprio dal primo di questi punti, cioè la gestione del tempo, perché pianificare per bene il nostro tempo ci permetterà di risparmiare tempo, quindi di impiegare meno tempo per portare avanti alcuni progetti, alcuni processi del nostro lavoro e ci permetterà anche di avere un quadro un po' più chiaro e completo di ciò che dobbiamo fare nel corso della nostra giornata, nel corso delle nostre settimane per poter raggiungere determinati obiettivi. L'obiettivo può essere la chiusura di un lavoro, può essere la scrittura di un disco, qualsiasi cosa. La cosa che chiaramente vi consiglio su questo punto è quella di utilizzare un'agenda, un calendario, trovate lo strumento che vi fa più comodo per segnare, per pianificare appunto i compiti che dovete fare sia quei compiti che vi chiedono poco tempo, quindi quelli che vengono chiamati task, sia invece quei compiti che hanno bisogno invece di più tempo e di più azioni per essere portati a termine come penso ad esempio alla chiusura di un disco, alla chiusura di un lavoro di composizione, qualcosa del genere. Io personalmente utilizzo due strumenti principalmente in combinazione, tra poco vi dico quali sono, per questo punto qui, quindi per gestire il mio tempo e utilizzo il calendario, l'applicazione del calendario che ho sia sul telefono sia sul computer per segnare le lezioni e segnare comunque gli appuntamenti che ho con altre persone quindi per avere un quadro ben preciso in sostanza di quando devo uscire di casa e di quando ho un appuntamento con qualcuno mentre utilizzo un'altra applicazione che mi fa da agenda settimanale principalmente, sulla quale invece segno tutte le azioni da fare nel corso della giornata per portare avanti degli altri lavori che invece gestisco io autonomamente. Quindi ho una lista di cose da fare e man mano che mi viene assegnato un compito o che mi viene in mente qualcosa da fare la aggiungo a questa lista e dopodiché ogni inizio settimana, quindi o la domenica sera o il lunedì mattina distribuisco questi compiti all'interno dei vari giorni della settimana in modo da avere giornate bene o male equilibrate anche sulla base di quanto sarò disponibile in quel giorno quindi confrontando appunto le giornate con gli impegni che ho segnato sul calendario per capire quanto tempo ho effettivamente a disposizione e allo stesso tempo in modo da riuscire a rispettare delle scadenze quindi se so che devo registrare qualcosa entro il mercoledì io suddivido le parti di registrazione di quel progetto in modo che al mercoledì siano complete e che io possa consegnare quel lavoro ma parliamo di applicazioni, di strumenti, cosa utilizzo per gestire il mio tempo? Utilizzo come calendario Google Calendar, da quando è uscito in realtà sul computer uso Notion Calendar che mi piace di più ma che non è ancora disponibile su Android però è integrato molto bene con Google Calendar quindi ho sullo smartphone Google Calendar, sul computer Notion Calendar che sono perfettamente sincronizzati tra di loro suddivido i vari impegni in diversi calendari colorati diversamente quindi ho il calendario per gli amici e per gli eventi personali oppure il calendario per le lezioni, il calendario per i concerti in modo da avere già a colpo d'occhio un'idea di come sono organizzate le mie giornate come planner invece, cioè come agenda, utilizzo Notion che è un'applicazione stupenda secondo me ha bisogno di un attimo di tempo per essere compresa, per imparare ad usarla però una volta capita la logica di questa applicazione è estremamente versatile io la utilizzo per molte cose tra cui appunto ho una pagina che è a tutti gli effetti la mia agenda personale andiamo avanti e parliamo di un'altra cosa fondamentale cioè l'organizzazione del nostro spazio di lavoro e spesso l'importanza di organizzare bene il nostro spazio di lavoro è sottovalutata ciò che faccio io non si svolge sempre nello stesso posto ma ho bisogno di avere una postazione fissa che è un po' la base di tutte le mie attività di pianificazione le attività di registrazione, di produzione musicale e questa postazione qui è la postazione dalla quale registro questi video non è assolutamente la postazione ideale però è una postazione che è pensata per essere funzionale per permettermi di avere tutto ciò di cui ho bisogno a portata di mano è pronto per essere utilizzato e questa è una cosa che secondo me fa veramente la differenza cioè avere una postazione che ti semplifica la creazione di ciò che devi fare che sia la composizione di un brano, la realizzazione di contenuti o qualsiasi altra cosa è fondamentale perché se io ogni volta che devo registrare un contenuto per YouTube dovessi montare la videocamera, prendere le luci collegare il microfono, accendere la scheda audio e quant'altro mi passerebbe la voglia e non fare più nulla mentre ho organizzato ad esempio per questa cosa in particolare la mia postazione in modo che accendo la videocamera la luce è già posizionata, devo solo accenderla la scheda audio è sempre attiva e quindi nel giro di 10 secondi sono pronto per registrare stessa cosa per la registrazione ho tutto a portata di mano quindi quando devo registrare qualcosa se si tratta delle chitarre devo solo prendere il microfono e spostarlo nella stanza a fianco se si tratta invece di produzione o comunque di qualcosa composta direttamente al computer ho già tutto davanti per poter lavorare quindi create la vostra postazione modificate la vostra postazione in modo che vi aiuti nel creare ciò che dovete creare e in modo che sia sempre tutto a portata di mano come applicazioni, come servizi da questo punto di vista non ho qualcosa in particolare da consigliarvi perché dipende molto da ciò che dovete fare però in linea di massima tutte quelle applicazioni che vi permettono di mettere in collegamento e di far comunicare le diverse parti i diversi strumenti e dispositivi che avete nella vostra postazione quelle sicuramente vi possono fare comodo ad esempio nel mio caso per la realizzazione di questi video ma anche per la realizzazione dei contenuti dei video in cui suono che pubblico online utilizzo un'applicazione che si chiama TalkStudio che mi permette di registrare i video prendendo direttamente l'audio dalla scheda audio e la scheda audio ha già al suo interno una catena di effetti che mi permette di avere l'audio già trattato quindi alla fine della registrazione del video io ho già un video in ottima qualità e un audio già trattato che non devo modificare non devo andare a ridurre il rumore sotto equalizzare e quant'altro ma l'unica cosa di cui mi devo occupare è quella di effettuare i tagli nei punti in cui appunto c'è da tagliare il video questo mi rende tutto molto veloce e non mi fa pesare il fatto che io debba registrare così tanti contenuti parliamo ora di pianificazione musicale io attualmente suono in diversi progetti ma sto riprendendo in mano anche il mio progetto solista che ho lasciato fermo per un po' di tempo e quindi di conseguenza mi sto anche occupando della pianificazione delle uscite dei brani di questo progetto e sto pensando a tutto cioè non sto pensando, non sto ragionando in ottica EP, in ottica album o in ottica concerti ma sto facendo un ragionamento che comprenda tutti questi aspetti quindi ad esempio ho pensato ad uno schema un processo che mi possa permettere di innanzitutto portare avanti questo progetto nel tempo per un bel po' che mi possa permettere di avere una continuità nella pubblicazione dei brani che mi possa permettere anche di avere una buona quantità di contenuti anche video da poter utilizzare sui social per mantenere anche una certa presenza sui social e che mi possa permettere anche di monetizzare tutte le cose che registro anche al di là di Spotify e quant'altro vi spiego meglio per farvi capire quanto è importante avere un processo da seguire una pianificazione fatta per bene e non fare le cose a caso il mio progetto solista è un progetto strumentale in cui la chitarra soprattutto la chitarra acustica è il protagonista principale quindi si tratta praticamente di brani strumentali per chitarra di base il discorso è questo quindi cosa sto pensando di fare? sto pensando di pubblicare sia brani originali che cover con una certa costanza su Spotify che sia una volta ogni due settimane che sia una volta ogni settimana magari una volta che ho preso la mano con questo processo perché comunque lo sapete c'è tanto lavoro da fare e poi siccome sono abbastanza a mio agio a registrare registrare il video di quel brano che sto registrando nel momento in cui registro l'audio e realizzare anche lo spartito di quell'arrangiamento o di quel brano quindi seguitemi bene una volta che io ho una lista di brani da registrare per poi pubblicarli qual è il primo passo da fare? chiaramente se li so già suonare è piazzarmi davanti a un microfono e registrare mentre registro l'audio accendo anche una videocamera in modo che riprendo anche il video e quindi alla fine della sessione di registrazione avrò l'audio da trattare chiaramente da mixare e masterizzare per poi pubblicarlo sulle piattaforme di streaming il video da pubblicare sui social e quando avrò scritto lo spartito anche lo spartito da poter vendere a chi è interessato a imparare quel determinato arrangiamento o addirittura quel determinato brano mio originale anche in questo caso ci colleghiamo un po' al discorso del punto precedente in cui bisogna cercare di rendere tutto più snello più a portata di mano possibile con una sessione di registrazione io realizzo diversi contenuti se riuscite a organizzarvi in questo modo anche questa cosa qui vi fa veramente la differenza da un punto di vista di scarico di stress e di semplificazione del lavoro quindi anche per il vostro progetto musicale cercate di fare un piano di individuare uno schema un pattern un processo da seguire che vi possa permettere di fare le cose con pianificazione in modo che riuscirete anche ad avvicinarvi molto più velocemente ai vostri obiettivi ma parliamo invece adesso di finanze cosa utilizzo per gestire tutti gli aspetti del mio lavoro legati alla moneta anche in questo caso avere una buona pianificazione organizzazione delle finanze vi può permettere di evitare tanti grattacapi quindi punto fondamentale che consiglio sempre è quello di tenere traccia delle proprie spese e per questo utilizzo wallet di Budget Bakers che è un'applicazione che ho installato sul mio telefono che si collega direttamente al mio conto bancario e alle mie carte e rileva in automatico le transazioni permettendomi poi di assegnare una categoria a quelle transazioni e mi permette anche di aggiungere manualmente invece tutti quei pagamenti che faccio a mano comunque in contanti in questo modo ho sott'occhio una panoramica delle mie entrate, delle mie uscite e soprattutto di dove vanno a finire i miei soldi cioè di quali sono le spese che affronto di più quali sono quelle categorie che mi portano più spese poi ci sono altre due applicazioni di cui vorrei parlarvi che sono le applicazioni che utilizzo invece per tutti quegli aspetti che vanno un po' più nella sezione degli investimenti quindi ho iniziato a fare dei piccoli investimenti da un po' di tempo utilizzando eToro che è una piattaforma molto semplice e efficace se appunto non avete voglia di investire del tempo per studiare un'applicazione, uno strumento che magari è più completo per la gestione degli investimenti ma che appunto vi mette davanti a un muro un po' più alto da scavalcare quindi utilizzo iToro per la gestione dei piccoli investimenti che sto facendo adesso e utilizzo invece Money Farm per il piano pensione perché avendo partita IVA volevo aprire un piano pensione integrativo mi è sembrata interessante la proposta di Money Farm dopo averne valutate altre e quindi utilizzo Money Farm per la gestione del mio piano pensione ma di nuovo avendo partita IVA c'è bisogno di pensare anche alla partita IVA e alla gestione della partita IVA c'è bisogno di capire come funziona c'è bisogno di alcuni strumenti che ti permettano di rendere semplice quei processi di gestione della partita IVA e soprattutto c'è bisogno di avere qualcuno al tuo fianco che ti sappia spiegare per bene ti sappia rispondere ai tuoi dubbi e soprattutto trovare qualcuno preparato nel campo della musica per me è stato molto difficile alla fine dopo essermi informato su diverse soluzioni per questo aspetto mi sono affidato a Fiscozen che mi sta anche aiutando alla realizzazione di questo video perché le persone di Fiscozen con cui ho parlato sono state le uniche a sapermi dare subito delle risposte precise su alcune tematiche fiscali legate appunto al lavoro del musicista di cosa si tratta quindi in pratica? Fiscozen è un servizio di gestione della propria partita IVA che ti mette a disposizione un commercialista dedicato sempre disponibile sia al telefono che via mail per assistenza e inoltre tramite la piattaforma che Fiscozen ti mette a disposizione rende la gestione della burocrazia un gioco da ragazzi grazie allo strumento online intuitivo per creare ed emettere fatture e che ti avvisa quando c'è qualcosa di cui ti deve occupare ti ricorda perfino le scadenze da rispettare per qualsiasi dubbio quindi hai sempre a disposizione in chat qualcuno pronto a risponderti e nella tua area personale hai in bella vista un grafico con l'andamento del tuo fatturato e un calcolo in tempo reale delle tasse che dovrai pagare così eviti brutte sorprese tutto questo ad un prezzo accessibile rispetto al costo di un commercialista tradizionale e che comprende anche la dichiarazione dei redditi quindi se vuoi aprire partita IVA ma vuoi evitare le seccature che ne derivano vai al link nella descrizione di questo episodio e richiedi la tua consulenza gratuita e senza impegno per capire come Fiscozen può semplificarti la vita con lo stesso link poi avrai diritto ad uno sconto di 50€ sul primo anno di abbonamento se deciderai di abbonarti ma andiamo avanti con gli argomenti del nostro video e parliamo adesso di collaborazioni e di networking che sono un'altra cosa importante nell'organizzazione del nostro lavoro per come sto organizzando il mio modo di fare musica e il mio modo di fare il musicista la maggior parte delle attività di networking che faccio in realtà si svolgono online o comunque sono rapporti che ho con persone che non sempre vedo di persona la maggior parte delle attività di networking che invece svolgo dal vivo in ambito musicale sono legate alle jam session che organizzo ogni due settimane in un locale di Bologna quella per me è l'occasione principale per conoscere nuovi musicisti per rivedere musicisti che già conosco per stringere i rapporti che si creano nel tempo appunto con queste persone in generale dei consigli per fare networking in ambito musicale sicuramente sono quelli di frequentare gli eventi musicali frequentare delle jam session perché sono le occasioni in cui si trovano tanti musicisti all'interno di un locale sono tutti musicisti che sono lì per suonare per conoscere altre persone per suonare con altre persone e spesso da questi eventi derivano anche delle collaborazioni nelle jam session che organizzo io nel corso del tempo ho visto tante collaborazioni nascere quindi queste sono ottime occasioni per creare una rete di contatti che però poi dovrai coltivare quindi alimenta le relazioni che si creano con queste persone proponi alcune collaborazioni o accetta le proposte che invece ti vengono fatte in modo da coltivare insomma una rete di contatti in ambito musicale e andando ancora avanti con il video ma ricollegandoci a quello che vi ho detto poco fa la parte principale del mio networking si svolge online perché? Perché l'attività di promozione principale della mia attività musicale si svolge proprio online e quindi come si fa a fare networking online? si fa creando delle relazioni con le persone che dimostrano interesse per quello che facciamo e allo stesso tempo promuovendo la nostra musica promuovendo i nostri servizi nel mio caso come faccio a promuovermi? la più grossa attività promozionale che faccio è la content creation quindi la creazione di contenuti come questo che stai vedendo che mi permettono appunto di raggiungere persone interessate a determinate tematiche quindi persone interessate a una parte dei miei servizi da musicisti quindi creo contenuti online questa è una cosa che ti consiglio di fare assolutamente perché prima inizi a mettere dei contenuti online prima arriverai ad avere una certa mole di contenuti online che ti permetteranno appunto di creare di ricavarti un tuo posticino su internet poi ho anche un sito web che utilizzo principalmente per inviare le persone su determinate pagine specifiche nel momento in cui si presenta l'occasione di parlare di un determinato servizio ho anche una newsletter che sto coltivando e che sto cercando di far crescere sempre di più con la quale invece promuovo direttamente i servizi inviando degli sconti inviando anche dei consigli su alcuni contenuti un resoconto dei contenuti che pubblico online quindi se dovessi darti un consiglio per promuoverti qualsiasi cosa tu faccia in ambito musicale crea contenuti registra video pubblica post articoli quello che è più adatto a ciò che fai ma pubblica contenuti quindi questo è grosso modo ciò che faccio io personalmente per organizzare la mia attività da musicista per gestire il mio tempo per organizzare i miei spazi di lavoro gestire le mie finanze abbiamo parlato di un casino di cose oggi e spero veramente che questo video ti sia tornato utile se hai domande se hai cose da chiedermi sentiti libero di scrivere nei commenti ma prima di lasciarti andare lasciami ringraziare Fiscozen per il supporto nella realizzazione di questo video e ti invito calorosamente a richiedere la tua consulenza gratuita con loro per capire se è un servizio che può fare al caso tuo qualora decidessi di iscriverti ti ricordo che con il link che trovi nella descrizione di questo episodio avrai anche diritto ad uno sconto di ben 50 euro sul primo anno di abbonamento io ti ringrazio per aver guardato questo video e ti aspetto per il prossimo ciao